Verificare se il sottofondo spolvera superficialmente a causa di un'anomala idratazione del cemento o della demiscelazione durante la lavorazione. Aspirare con attenzione tutta la polvere dalla superficie del sottofondo. Applicare il IdroRep indurente con annaffiatoio e distribuirlo a rullo o pennellessa in modo che venga completamente assorbito dal supporto, evitando con attenzione accumuli di prodotto. Dopo circa 48 ore, ad indurimento avvenuto di IdroRep indurente, si può procedere alla posa del pavimento. In interno si consiglia di ripristinare la planarità con planirapid autolivellante.